Auschwitz, solo quando nel mondo a tutti gli uomini sarà riconosciuta la dignità umana, solo allora potrete dimenticarci. La frase incisa sulla lapide del sacrario ai caduti di Marzabotto a Bologna riassume in pieno il significato che hanno inteso infondere alla giornata della memoria l'Istituto Cinematografico Lanterna Magica dell'Aquila, la Biblioteca Salvatore Tommasi, il centro ebraico Pitignani di Roma. In una mattinata trascorsa con attenti e partecipi studenti delle scuole medie e inferiori, tra dibattiti e testimonianze, la proiezione del film Giona che visse nella balena di Roberto Faenza, storia vera e struggente di Giono Bersky, ebreo-olandese deportato a quattro anni nel campo di Bergen-Belsen insieme a tutta la sua famiglia. Un destino simile a quello patito dalla famiglia di Clelia Terracini, presidente del centro ebraico Pitignani. Suo nonno Avram Piperno, aquilano, fu restata a Roma dai nazifascisti assieme a 16 amici e parenti nell'ottobre 1945, ed è portata da Auschwitz, da cui non ha fatto ritorno. L'importanza è quella di far conoscere ai ragazzi i problemi che possono derivare da una discriminazione senza motivo di persone ritenute diverse da noi. Per cui il progetto Memoria vuole inculcare nei ragazzi non la tolleranza, ma l'accettazione delle diversità. Io sono qui oggi in memoria di mio nonno, nato all'Aquila e purtroppo morto ad Auschwitz con tutta l'intera famiglia di mia madre. Mamma è stata l'unica superstite, ma ciò non toglie che nella nostra religione, quando si brinda, si brinda con una parola le caime, che significa la vita, per cui guardiamo indietro ma per vedere il futuro, non per rimanere ancorati ai dolori antichi. I dolori antichi ci hanno insegnato il rispetto degli altri.